Buona serata da Eleonore, oggi svolgeremo un nuovo consulto e in questo caso guarderemo la classifica dei segni più fortunati del mese di maggio, il mese che secondo i miei consulti sarà il mese della rinascita, ci saranno molti cambiamenti positivi perché per molti di voi arriveranno novità da quello che avevamo visto nel precedente oroscopo e ora vedremo, faremo appunto una classifica con il pennolo, una classifica dei segni più fortunati, iniziamo dal basso, quale saranno i segni meno fortunati a maggio, ariete, ariete è all'ultimo posto, poi abbiamo la bilancia, al terzo ultimo posto abbiamo il cancro, il mio segno, poi abbiamo sagittario, stiamo facendo la lettura in salita, parto dai meno fortunati e vado ai più fortunati, pesci, capricorno, siamo a metà classifica, alla fine ve la mostrerò per intero, ora vediamo i primi sei segni, i segni più fortunati dello zodiaco nel mese di maggio 2020, leona, gemelli, toro, arriviamo ai primi tra acquario, vergine, vergine e scorpiona, ora vi mostro la lista completa e potete confrontarlo già all'oroscopo del mese precedente, vediamo, dunque, guardate un po' il vostro segno dove si trova, questo è la classifica finale secondo il pendolo dei segni più fortunati del mese di maggio 2020, vi terrò aggiornato, aggiornati con nuovi video della mia attività, a presto dai da noi. Grazie. Grazie.